È scattata anche nel Piceno la campagna vaccinale contro l'influenza. Tra i primi a ricevere la dose anche la direttrice generale dell'Ast Nicoletta Natalini che per l'occasione ha invitato tutti gli operatori sanitari a fare la stessa cosa. Io mi sento di invitare tutti gli operatori sanitari a sottoporsi alla vaccinazione. Operatori sanitari che hanno un doppio ruolo, sono cittadini e quindi devono evitare di trasmettere il virus ai loro familiari, a tutte le persone fragili che incontrano nella loro vita. Ma essendo operatori sanitari hanno anche il dovere di essere al lavoro per curare tutti quelli che hanno bisogno e hanno delle patologie gravi. Quindi per loro la vaccinazione ha veramente un'importanza altissima. Quindi invito tutti a fare quello che ho fatto io oggi e quindi sottoporsi alla vaccinazione. È prevista tra l'altro anche la co-somministrazione gratuita di anti-influenzale anti-covid, quest'ultimo aggiornato alle ultime varianti. Entrambe le vaccinazioni rappresentano un'opportunità di difesa in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute nei confronti di una malattia che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è assolutamente banale e può portare con sé gravi complicanze. A sottolinearlo è anche il dottor Claudio Angelini che spiega perché ci si debba sottoporre al vaccino. È necessario e importante fare la vaccinazione anti-influenzale perché, come saprete, noi prendiamo come indicatore quello che succede nell'emisfero australe. Infatti qui adesso noi ci avviamo verso l'inverno, in realtà in Australia è passata da poco l'inverno e lì si è verificata la circolazione di un virus particolarmente aggressivo appartenente al gruppo AH3N2 che ha rappresentato, diciamo, da un punto di vista clinico una sintomatologia veramente importante. Quindi ci potremmo aspettare che lo stesso virus sarà il virus influenzale in Europa e nella nostra regione, nella nostra nazione. Poi bisogna anche considerare un altro aspetto che insieme al SARS-CoV-2, cioè il virus del Covid-19, continuerà a circolare e molto probabilmente con il periodo invernale ci sarà un'impennata del virus del SARS-CoV-2. Quindi avremo un mix di virus che staranno alla base di quello che è la sintomatologia influenzale o parainfluenzale. Gli adulti possono vaccinarsi dai medici di medicina generale presso i servizi vaccinali dell'Ast e nelle farmacie aderenti alla campagna. I bambini possono invece rivolgersi ai pediatri di libera scelta e sempre ai servizi vaccinali delle Ast con le stesse modalità degli adulti, ma non presso le farmacie. La vaccinazione per ospiti ed operatori delle strutture residenziali per anziani sarà organizzata dai distretti con la collaborazione dei medici di medicina generale. Infine, qualche utile raccomandazione. Nel momento in cui il soggetto accusa questi sintomi il buonsenso è quello di mettersi per esempio la mascherina. Abbiamo visto che sembrerà una banalità l'incidenza anche dell'influenza è diminuita drasticamente. Non frequentare ambienti sovraffollati e non fare gli eroi. Rimanere a casa, a riposo, bere molto e soprattutto non prendere gli antibiotici. Gli antibiotici devono essere assunti solo su prescrizione medica.